Dicono quello che penso anch'io, non è poco, non è poco di quello che pensa la gente. È un fatto mondiale, da cui usciremo, ripeto... Ma perché bisogna uscirne? Se ha ragione la gente. Ma no, ma insomma, ma perché? Basta farla ragionare. Ma scusa, ho capito che non vogliono quelli che sono neri, ma noi possiamo fare senza un'immigrazione regolare? Come devo chiamare un bambino di 12 anni che è nato qui, figlio di gente che paga le tasse qui? Cosa lo chiamo? Estracomunitario? Lo chiamo immigrato? Non è vero che la gente non... Bisogna dar battaglia su questi concetti basici. E quanti ce n'è da smuovere, insomma, no?